Musica Nell'ultima animata seduta del Consiglio Comunale è stato approvato il bilancio di previsione 2021. Assessore Ottaviano, un bilancio essenzialmente tecnico? Sì, un bilancio tecnico che praticamente risponde a tutti i requisiti che il Tuel ci obbliga a rispettare. Un bilancio che si chiude con un avanzo in amministrazione, quindi un bilancio in equilibrio, un comune non indebitato con un indice di indebitamento bassissimo, dove praticamente tutte le attività sono finanziate, soprattutto le opere pubbliche, sono finanziate o con trasferimenti dello Stato, quindi attraverso il reperimento di risorse prevenienti della Regione da progetti europei, oppure sono finanziate con l'avanzo di amministrazione, senza ricorrere a mutui. Un bilancio in cui la volontà del sindaco è stata quella di assumere finalmente del personale, perché Torre del Greco è la quarta città della campagna in cui l'organico è ridotto all'osso. E per ripartire, per porre in essere tutti i progetti necessari per far ripartire la città, è necessario adottare anche i singoli servizi, i singoli uffici del personale adeguato per poter attuare i progetti in essere. Quindi i punti nevralgici sono appunto quelli relativi all'assunzione del personale e alle opere pubbliche? Sì, ho un'assunzione del personale, quest'anno, già nel 2020 sono state assunti circa 22 figure professionali, perché il Comune ha partecipato al progetto RIPAM della Regione Campania. Sono previste altre 29 assunzioni di categoria sia C che D. Altro punto tassello importante di questo bilancio sono le opere pubbliche, sia le opere pubbliche finanziate nel passato attraverso i fondi PICS che delle nuove opere pubbliche che questa amministrazione ha previsto di portare avanti nel prossimo triennio, come già abbiamo visto nel DUP appena approvato nello scorso dicembre. In particolare di quali opere pubbliche si tratta? Si parla della riqualificazione della strada che porta a Villa Sora, della riqualificazione degli uffici scolastici, riqualificazione della litorania e poi non dimentichiamo che da poco attraverso l'assessore Gennaro Polichetti è stato approvato il PUC e quindi il PUC rappresenta proprio la riqualificazione, il nuovo volto della città di Torre del Greco, dove è prevista il fiore all'orchiello del PUC e proprio la riqualificazione del porto e la riqualificazione della litorania. Quindi si cerca di dare un nuovo volto alla città di Torre del Greco. Quindi un rilancio che passerà proprio dalle opere pubbliche, ma anche grazie all'assunzione del personale che sarà propedeutica ad una nuova futura programmazione. Certamente, perché senza il personale non arriviamo da nessuna parte, altrimenti avremo degli uffici che sono soltanto delle scatole vuote e programmeremo senza poter portare avanti le opere che abbiamo programmato. Quindi le assunzioni sono un tassello importante per il comunitore del Greco. Quindi in definitiva, assessore Ottaviano, lei è soddisfatta di tutto il lavoro che ha portato a questo bilancio? Abbastanza soddisfatta. Certamente si può sempre migliorare. Anzi, se raggiungiamo la perfezione voglio dire che è finita. Quindi bisogna sempre migliorare e cercare di fare le cose al meglio. Quindi grazie all'assessamento, alla operazione di bilancio, al riequilibrio e quant'altro abbiamo un anno avanti ancora con la nuova giunta di poter riprogrammare ancora nel migliore dei modi nella nostra città, i nostri programmi, ascoltando i consiglieri, ascoltando l'aggiunta di consigliere e quindi in sinergia con tutti potrete fare delle ulteriori opere, apportare ulteriori miglioramenti qualora ci fosse bisogno. Grazie a tutti.